Partita da incubo per la Virtus Francavilla contro il Giuliano sulla neutro di Avellino. La formazione campana di casa, dopo aver chiuso i primi 45 minuti in vantaggio per due reti a zero, ha controllato senza troppi affanni anche nella ripresa un campanello d'allarme per i bianco-azzurri di Calabro che ancora una volta non riescono a raccogliere punti lontano dalle mura amiche. Ecco la cronaca del match. Al 14esimo Giuliano subito pericoloso con Felipe, il suo tiro centrale viene controllato da Avella. 16esimo si fa vedere la Virtus Francavilla con il solito patierno, conclusione alta. La gara è piacevole, molte le occasioni da una parte e dall'altra. 21esimo, nuovamente Giuliano in avanti, cross teso dalla destra, intercettato da Idda che anticipa per un soffio la corrente. Attaccante Campano comincia a scaldarsi il match. 26esimo, i padroni di casa prendono in mano la partita e cominciano ad affondare in continuazione con grande facilità, troppa facilità sulla corsia di sinistra. Ojevale in contropiede mette in mezzo, si salva in qualche modo Avella. Il gol però è nell'aria. 28esimo, il Giuliano si trova in vantaggio. Tiro a giro di Ghisolfi che colpisce il palo. Mischia in aria e sul tap-in vincente c'è il gol della formazione di casa. Giuliano 1, Francavilla 0, gara in discesa per la squadra Campana. 34esimo, ancora Giuliano pericoloso con Rondinella, gara a senso unico adesso. 42esimo, Ojevale ancora dalla sinistra. Il Giuliano, gran tiro del calciatore di casa, para ancora Avella. 44esimo, arriva il raddoppio del Giuliano. Cross al centro di Salvemini e colpo di testa di precisione chirurgica di Manuel Nocciolini che batte l'estremo difensore ospite. Giuliano 2, Francavilla 0, con questo punteggio si va negli spogliatoi. Nella ripresa doppio cambio per la Virtus, fuori Solce e Cardoselli dentro Ecuban e Carella. Infuriato, Calabro con i suoi. La Virtus non riesce a reagire, almeno fino al minuto numero 68. Colpo di testa di Patierno che colpisce il legno. 1-1 il conto dei legni, dunque sfortunata in questa circostanza la formazione ospite. 79esimo, ritmo infernale, nuovamente avanti i gialloblu di casa. Gladestoni, autore del primo gol, alza oltre la traversa. Ottantesimo, entra anche Maiorino nel Francavilla. Francavilla che prova il tutto e per tutto, sfruttando soprattutto le discese di Cisco. In assoluto il migliore dei suoi, ma non succederà più nulla fino alla fine. Pesante sconfitta per la formazione di Calabro che ancora una volta conferma di essere in crisi di risultati lontano dalle mura. Amiche. Grazie. Grazie.